Welcome to MiroTV! Ragazzi, prima di iniziare con il video vi invito a prendere le mie parole, le notizie che vi andrò a leggere con le pinze perché vi ricordo che questi sono rumors, perché non c'è nulla di ufficiale la WWE non ha rilasciato nulla in merito, né tantomeno i lottatori e in questo caso anche Maria Canalis non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, quindi prendiamo tutto con le pinze ok, che non è arrivata una conferma, ok, che potrebbero essere false, ma qui bisogna parlarne perché bisogna parlarne? Perché da quando la All Elite Wrestling si è imbattuta, si è proclamata federazione non ovviamente a livelli della WWE, ok, su questa siamo assolutamente d'accordo però ha iniziato parecchio a far vacillare le federazioni come Impact, Ring of Honor e ovviamente anche la WWE perché dà una nuova possibilità ad atleti come questi quattro di riniziare una gran carriera cosa che stanno faticando sicuramente sia i Canalis sia i Revival queste notizie merivano quantomeno di essere ascoltate iniziamo con loro! Maria and Mike Canalis, si iniziamo proprio con loro che sono stati i primi a quanto pare aver chiesto il rilascio alla WWE WWE ha ripuntato, ha cercato di ripuntare su Mike Canalis riportandolo in uno show, in questo caso al tuo Fall Live ma sappiamo che il suo ultimo match è stato a dicembre e direi che se non è un altro fallimento per Mike dopo quel gran debutto, da virgoletta, a Money in the Bank quella piccola igualità con Sami Zayn se non è, ripeto, un gran fallimento poco ci manca io penso vivamente che questa notizia sia vera ovvero che questi due abbiano richiesto il rilascio alla federazione di Vince McMahon la notizia ce la riporta Pro Wrestling Sheet e quindi ragazzuoli stiamo parlando di un qualcosa che potrebbe davvero accadere che poi ci siano stati anche altre verità che facciano pensare che ci sia qualcosa di vero sì, è accaduto ragazzuoli, perché io seguendo Maria e Mike su Instagram ho notato che soprattutto Mike Canalis ha pubblicato una vecchia foto di un suo scontro contro Cody Rhodes ad Impact ricordando i bei tempi di allora e secondo me già da lì si poteva pensare che qualcosa stava accadendo poi pochi giorni dopo, guarda caso, esce questa notizia e allora ci credo allora inizio seriamente a crederci che Mike e Maria vogliono lasciare la WWE per provare forse a cimentarsi proprio con la All Elite Wrestling oppure un nuovo ritorno a Impact però secondo me, visto che hanno fiutato il gran interesse di Cody Rhodes e Company di reclutare star della WWE, o meglio superstar della WWE secondo me ci vogliono provare non so se ci riusciranno, non sarei sorpreso di vedere Mike e Maria settimana prossima a 2FA Live fare chissà quale segmento perché abbiamo visto con Balor, abbiamo visto anche con i Revival abbiamo visto con Rusev stiamo cominciando a vedere settimana in settimana davvero scosse importanti che la WWE vuole cercare di dare accontentando questi wrestler che sembrano avere in mano la compagnia a forza di malcontenti mi riferisco a Balor che ti fa tutti quei post su Instagram dove fa capire di sognare un eventuale tetto shot a titolo universale boom, la ottiene un altro esempio è Rusev prima di diventare campione degli Stati Uniti poche settimane prima si lamentava tantissimo della sua gestione boom, vogliamo parlare di Revival? nonostante la tetto shot avuta da questi due poche settimane fa contro Chad Gable e Bobby Roode sembra che tutti e due gli atleti, sia Dash che Scott abbiano chiesto il rilascio alla WWE dopo la puntata di Raw e sapete cosa ha risposto la WWE? almeno così pare? no, voi rimanete qui quindi rilascio rifiutato apparentemente rifiutato perché evidentemente la WWE ha iniziato a capire che c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va e la All Elite Wrestling ragazzi questo è importantissimo secondo me ha twittato una GIF di Cody Rhodes con scritto say yeah che guarda caso è la team dei Revival con Cody che prende un caffè e poi sappiamo anche come è finito quel segmento con Cody che ci ha abituato a guardare poi la videocamera e urlare fuck the Revival che non è una cosa molto casuale già ve lo dicevo qualche video fa di questa frase di Cody però se non avete seguito mai le sue scenette insieme anche a Young Bucks e tutto il resto difficilmente potete capire quindi mi fermo qua e vi confermo però che non è casuale non è casuale che i Revival stiano chiedendo rilascio e che la All Elite Wrestling vada a fare un post del genere con una GIF del genere e più di più con scritto say yeah secondo me ragazzuoli sta accadendo qualcosa di importante nel mondo del pro wrestling grazie proprio alla All Elite la All Elite Wrestling ragazzuoli sta cambiando qualcosa io non voglio spararla grossa tuttavia da quando Cody Rhodes e Young Bucks hanno iniziato questo percorso abbiamo visto puntate di Raw molto più interessanti abbiamo visto gestioni ancora più interessanti mi viene da pensare ad Andrade Senalmas addirittura abbiamo visto Rey Mysterio connettere manovre che sembrava essere bannate perché ragazzi parliamoci chiaro la Canadian Destroyer sembrava essere un miraggio ed avverla invece l'abbiamo vista l'abbiamo vista quindi ragazzuoli vi lascio così ditemi la vostra sia su Revival sia su Mike e Maria Canalis spolliciate commentate condividete iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto nemmeno è tutto too sweet